Il circuito di Sakhir con le nuove monoposto turbo amplifica lo stress in trazione sui pneumatici posteriori. Cinque tratti più impegnativi in uscita dalle curve più lente dove l'accelerazione combinata di motore termico e ibrido genera micropattinamenti che portano le temperature della mescola battistrada a picchi momentanei fino a 130 gradi. Delicato il compromesso aerodinamico che tiene conto di 4 rettilinei da 300 all'ora. Livello di carico medio che si paga in frenata con meno spinta verticale. Può causare bloccaggi all'avantreno ma rende critico anche l'assetto in curva portando a fenomeni di sotto e sovrasterzo che sollecitano le temperature delle mescole battistrada. Sabbie in traiettoria e soprattutto alte temperature ambientali rendono gravoso l'impegno dei pneumatici a causa del surriscaldamento superficiale della mescola battistrada. Picchi termici e degrado elevato rappresentano lo stress più comune su questa pista.